Amo essere organizzato e puntuale. Vivo con passione la mia giornata perché è ricca di sfide e mi piace pensare che ogni giorno si possa raggiungere un piccolo traguardo. La mia giornata inizia presto, ho bisogno di sfruttarla al massimo. Durante la settimana sono in ufficio tre o quattro giorni, gli altri invece vado dai clienti per consulenze tecniche o per valutare nuovi progetti. Faccio parte di un team ben collaudato. Lavorando in sinergia garantiamo al cliente assistenza continua e completa. Direttamente a casa sua grazie alla gente, l'aiutiamo dal punto di vista tecnico con la mia consulenza e lo supportiamo anche in fase di elaborazione e gestione degli ordini tramite l'ufficio commerciale. È per questo che mi piace lavorare qui. Wittenstein rappresenta secondo me l'unione perfetta tra stile tedesco e personalità italiana. Inoltre il continuo scambio di informazioni con la casa madre permette di sentirsi parte integrante di un gruppo formato da quasi 1900 persone. E poi è appagante vedere quanto siano apprezzati i nostri prodotti e servizi sul mercato. Spesso ci troviamo di fronte a sfide difficili, personalizzazioni complesse, interventi in extremis, progetti da realizzare sempre più all'avanguardia. Ma con impegno e professionalità riusciamo a trovare una soluzione su misura e a guadagnare la fiducia del cliente. Questo mi rende davvero soddisfatto.